buongiorno a tutti i guardiani io sono shark questo è l'angolo dedicato a destiny 2 questo video un po lunghetto quindi mettetevi comodi prima di tutto intro prima cosa fighissima bange è iniziato a fare gli eventi delle taglie in pratica bange stessa scegli un player a caso e lo manda con una squadra scelta da loro in competitiva in un determinato orario di un determinato giorno se si sconfigge e si uccide si viene premiati con un emblema speciale una cosa che apprezzo particolarmente visto che fino ad ora gli eventi a parte le prove dei nove sono stati solo ed esclusivamente per il pve lasciando il pvp un po da parte poi poi di che si parla aggiornamenti nel team di bange stanno lavorando come matti per risolvere non pochi problemi soprattutto per quanto riguarda la piattaforma xbox noto che da più di due settimane stanno risolvendo molti dei problemi che sono usciti e questo mi fa ben sperare per quanto uscirà la versione pc vorrei però tirare un piccolo sasso prima che sia troppo tardi come facevo nei miei vecchi video di the division ho deciso di farlo anche qua serve anche per creare discussione quindi se la pensate come me o diversamente da me scrivetelo nei commenti sarò lieto di leggerli e di rispondervi il sassodino che vorrei tirare riguarda l'uso assurdo che si sta facendo dei glitch come il farmi insensato per la fazione o degli engrammi proprio sfruttando questi difetti sappiate che è una pirlata ve lo dico da player di vecchia generazione l'uso dei glitch equivale all'uso dei cheat e se venite reportati è probabile che verrete bannati quindi ragazzi sconsiglio vivamente di utilizzare i glitch vi rovinate il gioco ma soprattutto non fateci i video sopra quella è la cagata più grossa primo perché siete reportabili molto più facilmente basta linkargli il vostro video e vi banneranno automaticamente e secondo rovinate il gioco di chi queste stronzate non le fa e vede queste cose sfruttate da i giocatori più inesperti o comunque più che si credono più furbi quando non serve assolutamente a nulla per favore non sfruttate i glitch vi avevo detto che il video era abbastanza lungo quindi introduco il terzo e ultimo in realtà argomento che però è un pochino di stricato in varie parti quindi bando alle ciance ho notato qualche difficoltà soprattutto per i clan pc sul da farsi un po' nel creare un clan un po' nel gestirlo e tenerlo vivo non conosco in effetti i clan altrui se non qualcuno ma ho visto che a parte le community di giocatori di destiny che si trovano su discord i clan di stampo più professionale sono pochi e con pochi giocatori e non capisco seriamente se vogliano rimanere in pochi o desiderano trovare giocatori quindi porterò una breve guida per dare una piccola mano nel migliorare la creazione e la gestione del clan innanzitutto avete creato un clan su bungie.net lo so è complicato trovare i player solo con il sito di bungie quindi ci si deve dedicare anche ai social una parte però importante che al vostro clan abbia questi requisiti per iniziare una pagina facebook twitter o google plus un canale ts o discord privati chiaramente un'idea di quello che vuole fare nulla di più nulla di meno sono tutte cose che potete fare tranquillamente e gratuitamente una volta che avete queste piccole cose dovete trovare una descrizione e inserirla nel profilo del clan quella che vedete ora sul mio schermo fatto ciò inserite nella descrizione anche i servizi che potete dare e iniziate a spammare pure sui social alla ricerca di player questo trucchetto per attirare qualche trucchetto in realtà per attirare c'è e in realtà forse quello più valido è avere un clan saldo con delle regole ferre attenzione però le regole ferre non intendo orari specifici o obblighi vari ed eventuali all'interno del clan queste cose normalmente allontanano i giocatori non li attirano verso di sé ma più che altro delle regole di comportamento all'interno del clan stesso l'esempio stupido ecco il mio noi arriviamo da the division dove siamo rimasti l'unico clan italiano praticamente attivo con tanti giocatori online questo vuol dire che abbiamo e ho creato una community molto salda che trasporterò ovviamente anche in destiny 2 ricordatevi inoltre e sempre che è un gioco e il divertimento è alla base di tutto se non ci si diverte in un clan quel clan presto o tardi morirà nel profilo nel clan e nel clan stesso se volete una gestione migliore inoltre di tutto potete farvi aiutare da persone fidate ma ricordatevi sempre voi siete i capi clan fatevi rispettare e cercate con la vostra personalità e magari un po di coglionaggine ok di amalgamare tutti i componenti senza tralasciarne nessuno se ci sono delle squadre vecchie e dei nuovi membri che entrano a far parte del clan cercate di fonderli assieme e di farli giocare assieme normalmente i gruppi di amici tendono a escludere gli estranei e a giocare tra di loro questa cosa in un clan non deve esistere se avete 30 persone quelle 30 persone devono essere interscambiabili se manca qualcuno non ci deve essere il problema del chi prendiamo ma è solo il problema del chi arriva per primo senza star lì ad avere tutti i problemi questa fa sì che ci sia una buona community e questo fa sì che ci sia un clan solido con persone che hanno voglia di giocare con la pro con quella determinata tag e che portino altra gente ma soprattutto il buon umore in discord o in ts con questo in realtà è tutto per fare un buon clan è quello questo che serve non servono veramente regole ferre non serve gente che citta non serve gente che usa glitch non servono i professoroni o i pro bastano persone che si vogliano divertire gli argomenti in realtà di cui vi volevo parlare erano questi tre quindi le taglie il glitch e i clan sperando ovviamente di avervi fatto piacere e comunque di avervi portato delle opinioni valide tra 20 giorni arriveranno una miriade di video con ride cala la notte crogiolo prove dei nove chi più ne ha più ne metta come facevo su dei division e cercherò ovviamente vedendo comunque molti video di youtube da parte dei ragazzi delle console molto più specifici quindi con build con tattiche molto più precise che vi possono aiutare guardando il video nell'affrontare tutto quello che è il mondo di destiny nel migliore dei modi con questo è tutto se vi è piaciuto il video o vi è servito lasciare lasciate un like se non siete iscritti alla pagina iscrivetevi ci farebbe molto piacere se volete discutere di qualsiasi argomento siete benvenuti con commenti qua sotto al video saremo lieti di rispondervi il prima possibile concludo augurandovi buon divertimento e cercate di non morire troppo guardiani ciao a tutti